Referendum, separazione maestra Venezia, Zaia dice vogliamo dare modo ai cittadini di esprimersi ma le carte vanno valutate. Dopo Vinyls, prospettive positive per l'arrivo di investitori, in attesa che crolli la seconda torre. Dopo i nostri servizi la fontana della discordia in quel di Campalto sarà sostituita con un'aiuola. Ombrelloni vietati in spiaggia, dopo le proteste a Lido il comune fa retromarcia. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Venezia, l'informazione di Rete Veneta che torna puntuale con tutti gli aggiornamenti e le novità. Iniziamo parlando del referendum che riguarda la separazione di Mestre da Venezia e viceversa, dipende da che punto si guardi questa faccenda. Naturalmente sulla questione il dibattito politico è apertissimo, interviene il governatore Zaia e dice attenzione, bene è giusto far esprimere le persone però bisogna valutare attentamente le carte. Sentiamolo. La regione Veneto non è a favore della separazione tra Venezia e Mestre ma di qualunque forma di espressione democratica da parte dei cittadini. A puntualizzarlo è il governatore Luca Zaia in risposta a chi accusa la maggioranza di Palazzo Balbi di voler indebolire il comune di Venezia o di voler fare un dispetto al sindaco Luigi Brugnaro. Da quando sono presidente, ricorda Zaia, non ho mai detto di no a un referendum. L'intenzione è quella di farlo, visto che c'è stata questa procedura. Noi non siamo promotori del referendum, c'è un comitato che l'ha promosso. Siamo a favore di tutti quelli che vogliono consultazioni referendarie. Lo dico a quelli che hanno poca memoria perché basti pensare che come regione non ci siamo opposti alla Mon piuttosto che a Sappada e andava contro i nostri interessi, fra virgolette, se qualcuno li volesse ancora vedere questi interessi. Appare però sempre meno probabile l'ipotesi di un election day il 22 ottobre insieme al referendum sull'autonomia. La complessa situazione giuridica, con un ricorso pendente al Tare e un altro di fronte alla Corte Costituzionale, suggerisce al governatore di muoversi con cautela. Abbiamo due soluzioni. L'election day, cioè fare il referendum dell'autonomia assieme a quello di Venezia Mestre il 22, oppure in maniera separata. Ho dato in mano l'avvocatura di valutare queste opzioni. Sotto profilo delle procedure che sono in corso penso al ricorso al Tare, penso ad altre attività giuridiche e penso anche al tema del danno erariale. Questo referendum costa un milione di euro ed è bene essere certi che se si fa non si crea danno erariale. Adesso parliamo di Vainis, le prospettive per il futuro sembrano tornare positive. Allora nel prossimo servizio conosciamo tutte le novità. Manca l'ultima fase, l'abbattimento della seconda torcia, poi l'area industriale di Vainis a Porto Marghera sarà bonificata, un importante tassello del percorso di riconversione. È il risultato del piano attivato dal tavolo tecnico di protezione civile attivato nel 2013 con il coordinamento della prefettura di Venezia per fronteggiare l'eventuale situazione di emergenza ambientale conseguente al pericolo di sversamento delle acque clorurate dell'impianto. Chiudiamo un capitolo importante di collaborazione tra pubblico, privato e istituzioni tutte della prefettura, la regione e il comune impegnate nell'evitare un disastro ambientale durante la procedura che ha visto Vainis in qualche modo essere destinata alla chiusura e al fallimento. Ma tuttavia c'è anche una forte amarezza per non essere riusciti come sistema paese, come governo, come nazione a rilanciare questo stabilimento prima della sua morte. Da qui l'impegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con la regione a ragionare ancora su Porto Marghera e aprire nuovi imposti di lavoro. A novembre ripartirà la Pilkington, quindi un primo forte segnale di cambio di rotta da parte della pubblica amministrazione. Le aree, ora messe in sicurezza grazie all'utilizzo di oltre 4 milioni dalle risorse del Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale del Ministero, verranno riconsegnate al curatore fallimentare. Un input che potrebbe portare a nuovi investimenti in queste aree, sempre però in ambito industriale, visti i potenziali. È evidente che le cose devono cambiare, stanno cambiando, la nuova amministrazione comunale insieme alla regione stanno davvero lavorando fortemente perché Porto Marghera possa attrarre nuovi investimenti. Un primo esempio ve l'ho fatto, ce ne sono altri che stiamo contattando, l'idea è fare ancora di Porto Marghera il polo industriale italiano. Ci saranno altri tipi di trasformazione, stile Las Vegas o ricettivo o alberghi. Porto Marghera è una grandissima piattaforma industriale, è una grandissima piattaforma portuale, e quindi le destinazioni sono industriale, produttivo, manifatturiero, logistico e portuale. Guardiamo questa foto tratta da Venezia. Today si perdono nel mezzo del bosco, a Sovramonte, nel Bellunese. Sono costrette a chiedere aiuto in possibilità di tornare sulla retta via. Serata che non dimenticheranno facilmente, quella di giovedì, per due scout sedicenni di scorzè che verso le 10 e tre quarti, ieri sera, hanno lanciato l'allarme al 118 al soccorso alpino di Feltre. Le giovani avevano perso l'orientamento ed erano finite sotto dei salti di roccia e non riuscivano più a muoversi con la sera, con il buio. Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino che le hanno ritrovate e portate a valle. Adesso parliamo della fontana di Campalto che ha fatto discutere tanto in passato. Ce ne siamo occupati con numerosi servizi. Adesso sembra essere arrivata la soluzione definitiva. Dopo un decennio di proteste ininterrotte, i cittadini di Campalto hanno vinto. L'orrendo, malfunzionante, insalubre e pericoloso manufatto conosciuto in paese come Fontana del Tubo sarà riempito di terra e trasformato in una aiuola. In attesa di trovare i fondi per restaurarla definitivamente, abbiamo chiesto che l'assessore Zaccariotto intervenga e trasformarla con un intervento minimale in una aiuola fiorita. I progettino lo stanno predisponendo e quindi tra poco potremo vedere finalmente chiuso questo obrobio, questa fonia trasformata in una aiuola. Il progetto del piccolo intervento dal costo inferiore ai 10.000 euro è già pronto e sarà presentato nei prossimi giorni. Nel frattempo la popolazione di Campalto, soprattutto quella in età da scuola elementare, si sta prendendo cura dei piccoli ospiti della Fontana. Le migliaia di girini che la scorsa primavera avevano fatto di quella vasca maleodorante la loro casa si sono infatti ormai trasformati in arzilli e saltellanti rospetti. Come ben si vede, oltre le foglie e tutto quello che cade all'interno e l'impossibilità di mettere in funzione questa fontana, con l'acqua ristagnante ci sono animali, ci sono delle rane che praticamente sono destinate a morire. Questo è intollerabile anche per un discorso etico. Ogni settimana interi secchi vengono riempiti dai bambini e scaricati nel vicino canale per salvare questi animali da una morte orribile. Allora, vi faccio vedere questa foto pubblicata da Matteo Secchi dell'associazione venezia.com, la conosciamo tutti quanti, ed è la campagna pubblicitaria iniziata dal Comune di Venezia per chiedere ai turisti di rispettare la città. Enjoy, respect Venezia con tutti i divieti, le cose da non fare in città. Ebbene, oggi arriva quest'altra foto di turisti che si vanno a fare il bagno completamente nudi in centro storico, foto fresca fresca pubblicata dai principali siti online. Ebbene, questi sono degli imbecilli, dei deficienti che non capiscono assolutamente nulla e non rispettano Venezia alla faccia della campagna appena messa in campo dall'amministrazione. Giusto dirlo. Amministrazione che deve fare i conti anche con il problema Lido per la querelle ombrellone. Sentite cosa è successo e perché l'amministrazione sembra aver fatto marcia indietro. Dopo le minacce di sollevazioni popolari e le proteste dell'opposizione in commissione, l'amministrazione comunale ha rinunciato al divieto di posizionare in riva al mare ombrelloni esdraio personali degli utenti delle capanne sulle spiagge del Lido. Il provvedimento sul nuovo piano per gli arenili è approdato in queste ore in consiglio comunale senza questa contestatissima norma. In zona S a Nicoletto è usanza di chi ha la capanna e trascorrere il tempo in riva al mare. Vorrei evidenziare che gli utenti sono soprattutto persone anziane o bambini o famiglie con bambini perché chi fa un uso serrato della capanna ha l'esigenza di avere un punto d'appoggio per le proprie cose. Quindi porre il divieto di andare in riva nelle ore più calde col proprio ombrellone era una cosa assolutamente inaccettabile. Argomentazioni che hanno convinto la maggioranza che infine si è decisa a ritirare la proposta. Siamo solo parzialmente soddisfatti perché il divieto di porre gli ombrelloni viene semplicemente demandato al gestore. Quindi saranno i gestori delle spiagge a decidere se gli utenti delle capanne potranno o meno utilizzare i propri ombrelloni o se lo spazio sarà sostituito dai lettini a pagamento che conosciamo nelle altre spiagge, nelle spiagge di Iesolo. Allora, questa sera c'è Focus. Ospiti del nostro direttore Bacialli ci saranno Roberto Grigoletto, Alberto Semenzato, Silvano Piazza, Federica Beltrame, Lorenzo Zanon e Paolo Pizzolato. Naturalmente aspettiamo i vostri sms. È tutto per TG Venezia, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata naturalmente su Rete Veneta.